Signori, chiamiamo tutti i saxofonisti che si sono esibiti qui sul palco, facciamoli venire, eccoli, Alex Cabrio, Alex Migliorini, Claudio Zanardo, Andrea Marangon, Diego Mascherpa, Doriano Perino, Fabio Gozzani, Fiorenzo Tassinari, Francesco Felici, tiriamo le somme di questa grande serata, di questo grande evento. Una bellissima serata per i saxofonisti più bravi d'Italia, l'avete sentiti, un'organizzazione fatta con Casanova, Casanova e Rei. Grazie a tutti, grazie. Ma li avete mai sentiti suonare tanti saxofoni così? No? E questa sera avrete la possibilità di poterlo fare. Signore e signori, tutti i saxofonisti in un grande pezzo. André. Grazie a tutti. 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 I Grandi del Sacro!